Clara! Seduto davanti alla piccola scrivania del soggiorno, Tom Benek mise insieme due foglie di carta bianca e uno di carta carbone e li infilò nella portatile. Clara, mi senti? Dimmi, non sentivo, c'era l'acqua aperta, scusa. Tom lanciò un'occhiata a un foglietto giallo sgualcito coperto di appunti scarabocchiati con la sua calligrafia che stava di fianco alla macchina da scrivere. Nella stanza faceva caldo. Sei sicura che non ti dispiace andarci da sola? No, mi dispiace che tu perdi il film, ci tenevi, vero? Eh sì. Si alzò e dopo aver affondato le mani nelle tasche posteriori dei calzoni grigi andò alla finestra del soggiorno. Però devo finire questa cosa. Appoggiò le mani al bordo inferiore delle imposte e spinse in avanti. Come al solito la finestra non si scostò e lui dovette andarci sotto con le mani a colpire a tutta forza verso l'alto per riuscire ad aprirla di pochi centimetri. Si ripulì le mani. Però devo finire questa cosa. Ma non cominciò ancora a lavorare. Attraversò la stanza fino all'inizio del corridoio e dopo essersi rimesso le mani nelle tasche si fermò sulla porta della camera da letto. Non ti dispiacerà però quando i soldi entreranno a palate, vero? Credo proprio di no. E sarò conosciuto come un genio. Il genio dei supermercati all'ingrosso. Sì, certo. Comunque lavori troppo e troppo seriamente. Clara gli sorrise e rimessosi alla scrivania Tom si accese una sigaretta. Pochi minuti dopo quando Clara riapparve pronta per uscire, l'appoggiò sul bordo del portacenere. Sono le sette appena passate. Riuscirò ad arrivare in tempo per l'inizio del primo spettacolo. Lui si diresse all'armadietto dell'ingresso per aiutarla a infilarsi il cappotto. La baciò e per un istante la teme stretta a sé annusandone il profumo. Le aprì la porta. Buon divertimento. A più tardi. La guardò camminare lungo il corridoio e poi fece per richiudere la porta, che però per un attimo oppose resistenza. La corrente di aria calda proveniente dal corridoio esterno lo investì improvvisamente. Udì dietro di sé il fruscio delle tende della finestra che sbattevano e uno sventolio di carte sulla scrivania. Dovete forzare per chiudere la porta. Si girò e vide un foglio giallino che svolazzava in direzione della finestra. Lo vide scivolare sotto lo spiraglio aperto, guizzare sul davanzale e scomparire nell'oscurità. Tom si lanciò contro la finestra e spinse finché non si aprì con uno schiante o un cigolio. Ma il foglio di carta era rimasto bloccato a una distanza di cinque metri buone contro il muro dell'appartamento vicino. Immobile, nell'angolo formato dai due muri, pressato dalla brezza contro l'elaborata decorazione del cornicione. Tom si inginocchiò sulla finestra e rimase a fissare per un minuto o più il foglio giallo, aspettando che si muovesse, che scivolasse giù dal cornicione e cadesse, sperando di riuscire a seguirne il tragitto fino alla strada, in modo da poter volare giù con l'accessore e recuperarlo. Ma non si muoveva. Cominciò a imprecare. Per quattro lunghi sabato pomeriggio era rimasto nei supermarket a contare le persone che passavano davanti a certe esposizioni e i risultati stavano scarabocchiati proprio su quel foglio giallo. Su quel foglio aveva anche copiato fatti, citazioni e cifre, tutto quello che serviva per sostenere e dare maggior peso alle sue idee, per un nuovo metodo di esposizione della merce nei negozi di alimentari. Senza quei dati la sua tesi rimaneva una mera opinione. Lì c'era tutto, scritto nella sua improvvisata scenografia, innumerevoli ore di lavoro e tutto su quel cornicione. Andare a riprendersi il foglio di carta era piuttosto semplice. Ci sarebbero voluti sì e no due minuti, né più né meno. Misurò ad occhio il cornicione e calcolò che sporgeva per la lunghezza della sua scarpa. Inoltre era perfettamente piatto. Ricordò anche, e lo verificò sporgendosi, che ogni cinque file di mattoni sulla facciata del palazzo c'era una scanalatura larga un centimetro. Sarebbe stata sufficiente per la punta delle dita e l'avrebbe aiutato a mantenere l'equilibrio con una certa facilità. Come per un impulso improvviso, balzò a sedere sul davanzale. Sapeva che gli conveniva sbrigarsi e non star lì a pensarci troppo. Lanciò una gamba oltre il davanzale. Poi andò a tastori finché col piede non trovò il cornicione, un metro sotto la finestra. Stringendosi forte al bordo dell'imposta e muovendosi con estrema cautela, vi passò sotto con la testa, sentendo sul viso l'improvviso cambiamento di temperatura. E con estrema attenzione portò fuori anche l'altra gamba, prevedendo con cautela ogni singolo movimento. Gli risultò difficile compiere i primi malcerti passettini e la paura gli aveva messo sotto sopra lo stomaco. Ma alla fine ci riuscì, continuando a costringersi a non pensare. Ormai stava con tutto il corpo appiccicato ai mattoni freddi e ruvidi. Il suo appartamento era improvvisamente scomparso e lì, fuori, c'era molto più buio di quanto non avesse pensato. Continuò senza pause. Piede destro, piede sinistro, destro sinistro. Le suole strisciavano e graffiavano la pietra grezza, non sollevandosi mai. E le dite scivolavano lungo il bordo dei mattoni. Finalmente arrivò all'angolo. Aveva già deciso come raccogliere il foglietto di carta. Sollevò il piede destro e lo piazzò con cautela sul cornicione. Ora aveva il viso rivolto verso l'edificio ed era ritto nell'angolo formato dai due muri, con un piede su ciascuno dei due cornicioni e una mano aggrappata a una fessura di ciascuna delle due pareti. Teneva la fronte premuta direttamente nell'angolo, contro i mattoni gelidi. Cominciò ad abbassare di una trentina di centimetri prima la mano, poi l'altra, fino alla scanalatura della successiva fila di mattoni. Quasi rannicchiato ormai, fece scendere la mano sinistra fino alla scanalatura successiva e poi lentamente si avvicinò con la destra al foglio. Riusciva appena a sfiorarlo e già le ginocchia gli premevano contro il muro. Non poteva piegarle più di così, ma chinando la testa di alcuni centimetri, pur tenendola sempre ben pigiata contro i mattoni, riuscì ad abbassare la spalla destra, a stringere fra le dite un angolo del foglio e a tirarlo su. In quello stesso istante vide sotto di sé fra le gambe la Lexington Avenue che si allungava per miglia e miglia. Con uno scatto spasmodico si ritrovò in posizione retta, ma si era mosso con tale violenza che la testa strisciò pesantemente contro il muro, rimbalzando, il corpo ondeggiò verso l'esterno fino all'estremo limite dell'equilibrio. Per poco non cadde con un tuffo all'indietro. Subito dopo era di nuovo incollato all'angolo, ma ancora non riusciva a smettere di tremare e ad aprire gli occhi. Rimase dov'era, respirando profondo e cercando di respingere il terrore. Era impossibile tornare indietro. Non ci sarebbe riuscito. Non era in grado di fare il più piccolo movimento. La forza era svanita dalle gambe. Le mani tremolanti, ghiacciate, disperatamente rigide avevano perso qualsiasi destrezza. La pur semplice abilità di muoversi e di bilanciarsi era scomparsa. Se avesse tentato di spostarsi, sarebbe goffamente inciampato e caduto. Trascorsero secondi con il vento gelido che gli premeva contro il viso. Riusciva a sentire il ronzio cupo del traffico della strada sotto di lui. Tom Benek si convinse che doveva provare a muoversi. Non c'era altro da fare. Come per un trucco, concentrandosi completamente sul suo piede sinistro, poi sulla mano sinistra, poi sull'altro piede, quindi sull'altra mano riuscì a muoversi. Quasi impercettibilmente. Durante il primo lento passo cercò di tenere gli occhi chiusi. In questo modo si sentiva più sicuro e protetto dalla spaventosa realtà in cui era immerso. Poi gli prese un improvviso attacco di vertigini e dovete spalancare gli occhi. Improvvisamente gli venne in mente l'immagine del suo appartamento, caldo, allegro, incredibilmente spazioso e vede se stesso che vi entrava, che vi si coricava sul pavimento a braccia spalancate, assaporando tutta quell'incredibile sicurezza. In fondo era convinto che sarebbe caduto, per cui si avviò con rapidi passi alla cieca senza rendersi assolutamente conto di quello che stava facendo, avanzando lateralmente con una goffa e disperata sveltezza, le dita aggrappate alla scanalatura dei mattoni, ormai quasi rassegnato all'improvvisa spinta all'indietro e al rapido tuffo che avrebbe compiuto verso l'esterno e il basso. Così riuscì quasi ad arrivare alla finestra e l'aveva portata di mano, ma la mano gli scivolò, non più su un mattone, ma nel vuoto assoluto. Perse l'equilibrio e cadde in ginocchio, tentando disperatamente di aggramparsi al telaio della finestra, ma questa, sotto la spinta del suo corpo, cadde con fragore nell'intelaiatura, chiudendosi come una ghigliottina. Per un attimo rimase sospeso tra la vita e la morte. Poi, piegando lentamente i gomiti, cominciò a trascinare verso l'alto il peso della parte superiore del corpo. Mentre i gomiti si piegavano impercettibilmente, il corpo tremava per la tensione, il sudore gli scendeva dalla fronte a goccioloni. Riuscì a concentrare tutto il suo essere fisico e psico nelle punte delle dita. Poi, la tensione diminuì e si dissolse quando il torace toccò le imposte della finestra e lui poté inginocchiarsi sul davanzale con la fronte premuta contro i vetri della finestra. Chiusa. Aprire la finestra era impossibile, sebbene non si fosse chiusa completamente. C'era solo un po' di vetro fra lui e la stanza e quindi era impossibile che non ci fosse un modo per arrivarci. Lo sosteneva il pensiero che una volta tornato a casa avrebbe potuto sfogare tutte le sue sensazioni. Fu colpito dall'idea che forse avrebbe dovuto aspettare finché Clara non fosse tornata a casa e per un attimo la cosa gli semprobuffa. Già la vedeva precipitarsi attraverso la stanza con un'espressione stupita e spaventata. No! Non poteva assolutamente restarsene lì ad aspettare che Clara tornasse a casa. gli venne in mente così senza alcun motivo che la sua morte sul marciapiede sottostante sarebbe rimasta in eterno un mistero e la finestra era chiusa perché come e da dove poteva essere caduto. Inoltre nessuno avrebbe saputo identificare il suo corpo almeno per un certo periodo. Questo pensiero chissà perché gli risultava insopportabile e aumentò la sua paura. Tutto quello che gli avrebbero trovato nelle tasche sarebbe stato il foglietto giallo contenuto delle tasche del morto un foglio di carta con delle annotazioni a matita incomprensibili. C'era un'ultima cosa che poteva tentare. Sapeva di poter allungare l'altra mano dietro di sé di un metro circa tenendo stretto il pugno finché non avesse percepito di essere al limite dell'equilibrio. poi avrebbe indirizzato il pugno con tutta la forza consentitagli da quella distanza verso il vetro. Se si fosse rotto si sarebbe salvato. Se al contrario il vetro non si fosse rotto per reazione il braccio sarebbe rimbalzato all'indietro facendolo saltar via dal davanzale. Di questo era certo. Non poteva rimanere inginocchiato esitante all'infinito. con tutta la forza possibile con ogni residuo di forza che poter racimolare scagliò in avanti il braccio verso il vetro. Clara! udì il rumore sentì il colpo percepì che il suo corpo stava cadendo in avanti mentre la mano si richiudeva contro le tende del soggiorno e i cocci e i frammenti di vetro tintinavano sul pavimento. Non si sdraiò sul pavimento si limitò a girarsi verso la scrivania si tolse di tasca il foglietto giallo e lo rimise dove era stato prima stirandolo un poco poi vi appoggiò sopra una matita per fissarlo scosse la testa e si incamminò verso l'armadio prese cappotto e cappello e senza aspettare di indossarli aprì la porta d'ingresso e uscì per andare a raggiungere sua voce si voltò per chiudere e percepì l'aria tiepida del corridoio che si infilava di nuovo dallo spiraglio vide il foglio di carta gialla spostare la matita e poi svolazzare sopra la scrivania quindi oltrepassò la finestra senza vetro e si diresse fuori nella notte lontano dalla sua vita abbiamo trasmesso il contenuto delle tasche del morto di jack finney traduzione di adriana dell'orto con gino pernice desi vender orazio donati regia di pasquale d'ascola realizzazione tecnica lucio cavallarin assistente alla regia Renzo Ceresa programma realizzato presso il centro di produzione RAI di Milano